La Toscana è una regione attrattiva che nei suoi distretti industriali, come nelle attività turistiche e culturali, addirittura attrae talenti. Ritengo che però affrontare questa questione del rapporto fra talenti e prospettive di lavoro, fra talenti e possibilità di occupazione e quindi sviluppo e quindi creazione di livelli tecnologici sempre più alti nelle nostre regioni sia un tema molto importante e noi ci adeguiamo anche a guardare verso il futuro attraverso risorse che sulla formazione professionale e sul rapporto di politiche attive che possano integrare talenti e professionalità nel nostro sistema produttivo, anche con quelli che sono i fondi europei 2021-2027, curiamo con grandissima attenzione. I risultati si vedono.